Allora, Babbo Natale, sta arrivando il tuo momento, ci siamo quasi, ci siamo quasi, se tu intanto fai un po' di pratica col paracadute che arriverà il tuo momento a breve. Ciao, io sono Elia Calò, stavo facendo due chiacchiere con il mio amico di questo periodo, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel barmita e ci stiamo avvicinando a uno dei periodi, non so se sono più attesi o meno, c'è chi li attende e chi meno, e comunque più interessanti dell'anno, c'è questo un po' di, come posso dire, di frizzantino nell'aria e ispirandomi al frizzantino che c'è nell'aria, quindi gli acquisti, il caminetto acceso, gli amici che vengono a trovarti a casa, alcuni graditi, alcuni un po' meno, i parenti soprattutto, insomma delle cosette simpatiche che succedono un po' tutti gli anni, quindi ho detto io, ho pensato all'aria frizzante e al fatto che molto spesso vengono degli amici a casa ma ci colgono un po' alla sprovvista, ho deciso di ispirarmi a due ingredienti che di solito durante il periodo di natalizio non mancano mai e sono sicuramente mandarini e una bottiglia di prosecco o insomma di spumante, quello che avete insomma in casa, di solito non mancano mai, quindi che cosa ho fatto? Ho preso il mandarino, l'ho spremuto intanto e mi sono preparato un po' di sciroppo di zucchero, se ti sei perso l'episodio in cui parlo dello sciroppo di zucchero trovi il link qui sopra e procediamo al nome della ricetta, è un super classico, quindi non ho inventato niente questa volta e non ho dato nessun tocco magico e sto parlando del Puccini, grandissimo classico, fa parte della famiglia degli sparkling, quindi della quale fa parte insomma i Rossini, Bellini eccetera eccetera, insomma il Puccini è uno di quelli, veramente molto particolare, delicato, piacevole, disse tanto, ottimo aperitivo insomma ecco, allora leggero soprattutto, quindi come procedo? Di solito ci sono due varianti, la variante è utilizzare magari un mixing glass, quindi si mette il ghiaccio nel mixing glass, si raffredda e poi si versano gli ingredienti, si miscelano e si versa nel bicchiere, io invece preferisco partire da ingredienti molto freddi per evitare insomma che poi mescolando col ghiaccio se ne va via un po' di acqua e di, chiedo scusa, un po' di frizzante e in più si annacqua un pochino, quindi ho preferito rimanere su uno stile un po' diverso, tutto qua, poi tu scegli insomma lo stile che preferisci di più, ovviamente io lo farò in piccolo, tu puoi farlo anche direttamente in caraffa, in modo tale che se hai un po' di ospiti, farlo direttamente in caraffa con le proporzioni che ti dirò fra poco, andrei ad aprire la bottiglia di prosecco? Normalmente non è consentito il botto, poi festeggia festeggia, io non lo faccio, ok, controlliamo che il prosecco sia a posto e procediamo con, quindi gli ingredienti sono questi, cosa ci vado a mettere, quindi quali sono i quantitativi? Normalmente 50 e 50 di solito questa è la mia proporzione, l'unica accortezza che ti chiedo è, che insomma secondo me è la cosa che funziona di più, è aggiungere un pochino di sciroppo di zucchero all'interno della spremuta perché lo rende un po' più dolce all'inizio e quindi renderà il drink un po' più gustoso, se vuoi puoi anche aggiungerci un goccio di un liquore, magari al mandarino, sarebbe perfetto, io in questo caso non lo voglio fare perché voglio rimanere leggero, in questo caso ho già messo del acqua e ghiaccio all'interno del bicchiere per farlo raffreddare al meglio, ok, e procedo con gli ingredienti, metà e metà, questi sono 5 cl e andrò a colmare con del prosecco, sei dei flute, tranquillo, versa molto piano perché diciamo le parti in sospensione del mandarino tendono a creare questa schiuma, quindi potrebbe fuoriuscire dal bicchiere, gli diamo una leggerissima mescolata, questo è un drink che non deve essere molto abbondante, insomma è un drink da aperitivo, quindi io rimarrei intorno ai 10 cl, poi in base a quello che preferisci utilizzare tu, io andrò a decorare con una semplice buccia di mandarino che ho decorato in precedenza e direi che il nostro Puccini è più che pronto, non canto jingle bell perché sono un po' stonato, te il tuo Puccini, ovviamente continua a seguire il mio canale Instagram, Facebook e YouTube Il Giardino Sotto il Naso, commenta e condividi con i tuoi amici e noi ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao!